3 tonnellate di droga e 35 milioni di dollari in contanti sequestrati, 21 micidi sventati e centinaia di persone arrestate in tutto il mondo. La gigantesca operazione che ha colpito contemporaneamente i cartelli della droga sudamericani, le triadi asiatiche, le organizzazioni criminali medio orientali, quelle europee e un paio di bande di motociclisti americani era nata tre anni fa in un pub degli Stati Uniti davanti a un paio di birre. Fu lì infatti che due agenti dell'FBI ebbero l'idea di creare un'app di messaggistica crittografata ovvero capace di criptare messaggi e di diffonderla attraverso un trafficante di droga alla quale è stata data da due agenti sotto copertura nel mondo del crimine organizzato. Il successo è stato immediato e l'app chiamata Anom è diventata in breve un mezzo di comunicazione utilizzato da circa 11.000 criminali di mezzo mondo per gestire traffici di droga, armi, ordinare ed eseguire omicidi, riciclare denaro. Il tutto però avveniva sotto gli occhi dell'FBI che ha intercettato e decriptato oltre 25 milioni di messaggi. L'applicazione Anom era installata su cellulari privi di qualsiasi altra funzionalità che così potevano comunicare solo con un telefono sul quale fosse installata la stessa applicazione. Questo significa che un criminale poteva scambiare messaggi e video solo con un altro criminale che doveva conoscere personalmente. In pratica, ha spiegato un funzionario della polizia neozelandese, si sono ammanettati da soli, uno dopo l'altro.